Musica Nome Alberto Cognome Pomini Ruolo Portiere Soprannome Pomo La cosa che ti riesce meglio importa? Eh, nessuna Quella che ti riesce a peggio? Eh, l'uscita Il momento più bello della tua carriera? La vittoria della C1 Chi sono i tuoi vicini di spogliatoio? Magnanelli e Masucci I loro peggiori vizi? Eh, troppo narcisisti Che è il migliore della squadra negli esercizi di atletica? Magnanelli E il peggiore? Noselli Il migliore a tavola? Zampagna Quello che veste in maniera indecente? Tarozzi Facce l'imitazione di Titone? Uè, minchia No, ho sbagliato Vai avanti Uè, porco dinci Ora quella di Fusani Non lo so fare Il tuo programma tv preferito? Database Rattivi e Pino Scotto Meglio Vasco o Di Caboe? Nessuno dei due Meglio una donna tutta calda che ti mangia con gli occhi o Giorgio Squinzi? Eh, una donna tutta calda che ti mangia con gli occhi Però anche Giorgio Squinzi Quante volte fai sesso in una settimana? Adesso è un brutto periodo Facci la smorfia più brutta del tuo repertorio Facci uno sguardo tenero La faccia di Piolli quando subite gol La faccia di Piolli dopo una vittoria Di dove sei originario? Verona Mandami al diavolo il tuo dialetto Vai Mona Adesso mandami al diavolo con la cadenza emiliana Uè, vai in figa, ne? No, è milanese questa qua Saccime Per chiudere, un saluto a tutti i tifosi del Sassuolo Forza Sassuolo